Per il piano di Odi ho scelto un po' l'oro spante, l'ho sezionato in parti e lo vado a rosolare per bene in una padella ampia, antiaderente, con un filo d'olio. La parte della pelle mi deve risolvere crocante e ben berata. Allontano i tocchetti di pollo e sopra, nello stesso modo di rotura, aggiungo il metrito, il quale è composto da cipolle di tropea, sedano e tocchetti di carote. Dopo che li appassisco aggiungo all'oro i miei peperoni che sono già stati lavati e tagliati in tocchetti grossolani, sfumo con vino bianco, sale e pepe e riadaggio il mio bolo sopra. Lo faccio appassire insieme ai peperoni, poi aggiungo del pomodoro, aggiungo due foglie di alloro, ricopro tutto quanto e aspetto per la cottura ultimata. Lo servo con un po' di riso basmati, tipo afgano profumatissimo che ho cotto da parte, con il tingolo del pollo e dei peperoni, il piatto è pronto. Buon appetito!